Sotto il sole finalmente dopo giornate di pioggia, qui dal Porto Vecchio di Sanremo in diretta su R101 aspettando Davide Van der Frosse. Ah, tra molto poche... eh, ci sono già i fans! Eccoli là, va benissimo! La nostra luna di miele è stata un'avventura. Trenta notti in tenda nel parcheggio del discount. E se la tua vita facesse un salto di qualità? Seato presenta la nuova Leon Copa, con navigatore, bluetooth e sensori parcheggio in omaggio. Scopri le onda 12.990 euro, sabato 19, domenica 20, solo a febbraio, info all'800-100-300. Il mio papà fa l'architetto e da quando ha lo smartphone, scrive la posta sul cellulare e lavora dove vuole. È proprio un papà speciale! Ah, romano! Hai un'attività!